Ben trovati con l'oroscopo di Barba Nera, l'almanacco italiano dal 1762, mercoledì 27 marzo. A rete, penalizzata dall'opposizione della luna venere in via segnali di disagio, in amore e incertezze vi costringono a fare un passo indietro, possibilità di multe salate disaccordo in coppia e acquisti al di sopra delle vostre possibilità, attenzione. Poro, muovetevi liberi da lacci e lacciuoli, potete così guardare al futuro con ottimismo e tanta convinzione. Ottime occasioni nel lavoro, basta crederci, è in arrivo una piccola rivoluzione da non temere, i dubbi svaniranno e tutto andrà a posto. Gemelli, complice e il raggio benevolo della luna in bilancia, avete le carte in regola per fare acquisti azzeccati e per intervenire ad un party senza sfigurare. Con un look curato ed elegante e anche in un ambiente un po' snob, riscuoterete un successone. Cancro, bersagliata da venere e marte, la luna in bilancia insinua un senso di inadeguatezza e di disagio, incomprensioni e contrasti in famiglia, sfasamento, chiusura, sensazioni persistente di essere bersagliati dalla sfortuna, ma non esagerate. Leone, la luna in bilancia vi offre l'occasione per farvi perdonare dal partner qualche birichinata a suon di effusione con un dono significativo. Voglia di nuovi acquisti, creatività, recupero di un rapporto che attraversa un momento di crisi. Vergine, accettate serenamente un confronto di opinioni, non irrigiditevi sulle vostre idee anche se vi sembrano più lungimiranti di quelle altrui. I rapporti con l'ambiente creano tensioni? Forse pretendete troppo, mantenete uno stato d'animo sereno. Bilancia, se di carattere siete un po' permalosi oggi basterà una parola di troppo per ferirvi, innescando reazioni spropositate rispetto all'offesa. Capita a tutti di non poterne più, ma è sempre un errore farsi prendere la mano dall'insofferenza. Scorpione, con un cielo così potete trovare risposte soddisfacenti a vari problemi lavorativi. Mettete a fuoco ciò che non va e preparatevi a cambiare l'obiettivo. Tenendo gli occhi aperti durante un viaggio o una vacanza arriverà chi vi farà battere forte il cuore. Sagittario, la luna in bilancia fa il suo dovere riequilibrando le emozioni e rimettendovi subito in riga. In compagnia degli amici ritrovate voi stessi una questione legale ingarbugliata o le contestazioni di una multa si evolve a vostro favore. Capricorno, qualche ritardo o intuppo legale è prevedibile con la luna in bilancia, ma non perdete la fiducia e non sbarritevi a pochi metri dal traguardo. Se affrontati con calma i problemi si risolveranno senza lasciare traccia, a parte una sottile scia di malumore. Acquario, super favoriti dalla luna in bilancia, saprete guadagnarvi ammirazione, coccole e simpatie, consapevoli di piacere e acquistate sicurezza. Rapporti distesi con il partner, comunicazione fluida con gli amici, ideale per una rimpatriata. Pesci, restare dietro le quinte del palcoscenico dopo gli scombussolamenti dei giorni scorsi non vi dispiacerà affatto. Una festa da non perdere, riflettete sugli avvenimenti passati e rivedere un investimento un po' azzardato è il compito della giornata. Grazie a tutti.